Guidava a fari spenti a zigzag con sorpassi a dir poco azzardati. Un vero pericolo per gli altri e per lui stesso. Lunedì sera, attorno alle 20, i carabinieri della stazione di Seregno hanno fermato un 47enne residente nel Comasco. I militari dell'arma hanno notato in via allo stadio, a Seregno, la sua Kia Sportage di colore bianco procedere a luci spente con un'anomala andatura a zigzag in mezzo alla strada. L'auto, giunta all'altezza dell'incrocio con via Pietro Toselli, ha sorpassato improvvisamente il veicolo che la precedeva per poi tagliargli la strada, svoltare a destra e dirigersi verso Milano. Lì è stata raggiunta e fermata dai carabinieri. Non appena abbassato il finestrino, il conducente alla guida è apparso visibilmente alterato, con i classici sintomi da abuso di bevande alcoliche. Occhi lucidi, alito vinoso, frasi sconnesse, scarsa reattività nei gesti. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporre l'uomo all'alcol test. In entrambe le prove è risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore a 1,7 grammi litro, più del triplo del consentito. È stato dunque denunciato per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente e sequestro del SUV. Per altro nuovo, sottolinea l'arma, ai fini della successiva confisca dello Stato, che ne incasserà i soldi della vendita.